Centro Ufficio, Viale Teseo Tesei a Porto Ferraio È accaduta nella notte la statua centrale della chiesa di San Giacomo Maggiore a Porto Azzurro ed è proprio la statua che rappresenta la figura del santo patrono del paese, quella di San Giacomo Maggiore. In maltempo di questi giorni, il forte vento delle ultime ore evidentemente, sono stati la causa dei danni al busto del santo da cui si sono staccati la testa ed il braccio. I calcinacci sono caduti sulla pavimentazione sottostante causando anche la rottura di alcuni gradini che portano all'ingresso della chiesa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a prelevare la statua per evitare che ulteriori eccedimenti del busto del santo provocassero danni a persone e cose. La chiesa di San Giacomo Maggiore fu terminata intorno al 1656, nel 1700 fu rinnovata e arricchita da decorazioni ispirate al barocco catalano, poi distrutte nel 900 e sostituite dagli affreschi dell'elbano Eugenio Allori. Un busto d'argento di Santa Barbara, i dipinti con i santi Giuseppe e Simeone, oltre alle lapidi di generali spagnoli che comandarono la piazza di Longone, rimangono a testimonianza dell'assetto originario.